Pietro Panariello, responsabile della Spicigelle pensionati di Torre del Greco, in questi giorni molti anziani si stanno recando qui in sede per chiedere informazioni su un presunto pagamento dell'Imu. Sì, è vero, stanno venendo tantissime persone, tra cui molti anziani, preoccupati per pagare l'Imu per la casa principale. Comunque noi lo rassicuriamo perché abbiamo parlato anche con il responsabile dirigente dei tributi e ci assicurate che per la prima casa non devono pagare assolutamente niente. Questa preoccupazione nasce da una lettera della Publi Servizi che hanno ricevuto? Sì, effettivamente hanno ricevuto una lettera con dei moduli F24 per pagare eventuali tributi per la prima casa. Naturalmente questo riguarda solo la prima abitazione. Sì, senza atti riguardo per la prima abitazione. Però notavo ancora un'altra cosa che anche per la seconda casa i dati sono un po' errati perché abbiamo notato che gli importi sono diversi da quelli reali. Quindi assolutamente non bisogna fare riferimento a questa lettera della Publi Servizi ma eventualmente rivolgersi al sindacato. Sì, eventualmente bisogna rivolgersi al sindacato, un CAF qualsiasi importante e non pagare subito ma verificare. Per ogni informazione voi qui quando siete aperti, in che giorni e in che orari? Allora, noi siamo aperti tutti i giorni, dalle 9 fino all'1 e dalle 15 fino alle 19, 20. Siamo sempre disponibili per tutti.